salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete vedere siamo di nuovo qua su train mechanic simulator 2017 allora è un paio di giorni che non porto una nuova puntata di questo splendido titolo quindi direi che ci possiamo assolutamente mettere al lavoro perché siamo un pochettino indietro con gli incarichi dobbiamo fare l'incarico numero 5 delle locomotive a vapore stavo dicendo ma non è così sono quelle elettriche dobbiamo andarla a prendere con il nostro bellissimo rimorchiatore allora esci dal garage ok eccoci il treno danneggiato che si trova vicino alla tua stazione di riparazione precisamente dove di qui di qui non si sa boh iniziamo ad andare vediamo che succede vista lo vista lo vista lo vista lo vista lo vista eccola la eccoci prendiamo sta bella locomotiva ok adesso c'è il caricamento ok ci siamo allora devo tornare praticamente di nuovo indietro ok eccoci vediamo un pochettino quali sono i problemi sembra che i pantografi o cavoli non riuscivo neanche a dire la parola siano danneggiati verifica quali parti sono state danneggiate fai le riparazioni necessarie sono cinque parti da riparare il pantografo io sinceramente non so dove si trovi credo in queste zone qua sinceramente vediamo un po raga l'ho beccato e sul tetto eccolo qua questo è il pantografo a quanto pare vediamo un attimino facendo il collaudo ovviamente immagino che è danneggiato noto danneggiato anche questo noto danneggiata anche la molla non so se c'è a si cavolacci c'è allora tre le abbiamo trovate lì sicuramente questa è danneggiata e sicuramente questi sono danneggiati li abbiamo trovati tutti raga dobbiamo solo adesso smontarli quindi smontiamo questo smontiamo questo e andiamoci smontare anche l'altro pantografo ok smontiamolo questo è a posto però devo smontare le robe che ci sono sotto in realtà quindi dobbiamo praticamente smontare tutto questo pezzo qua perché ecco noi dobbiamo praticamente cambiare queste parti qua ok vediamo un attimino se si possono riparare perlomeno vediamo un po si questo si devo dire forse è meglio non rischiare allora dobbiamo prendere un pantografo strisciante e poi pantografo molla ok allora eccoli qua pantografo strisciante e pantografo molla ordina 7000 euro ci vendiamo tutto il resto ok abbiamo venduto tutto adesso ce li rimontiamo devo andare sul tetto ovviamente ok facciamo modalità di montaggio e iniziamo a montarci ovviamente la nostra bella roba ok il primo l'abbiamo montato ora ci montiamo anche il secondo uno mi sono dimenticato sta roba qua aspettate allora questo questo poi abbiamo questo e non ci manca quell'affare la pantografo strisciante non l'ho comprato eh sì cavolo me lo sono dimenticato non l'ho comprato accidenti dobbiamo comprarlo eppure ricordavo di averlo comprato eh devo dire forse magari ne servivano due beh effettivamente si ne servivano due no uno ho sbagliato io che non ho presi due ok va bene dovremmo esserci sì possiamo guadagnare tranquillamente 2000 euro 2000 dollari in realtà ok continua perfetto allora vediamo un po se possiamo farci ancora un lavoretto o abbiamo un bel po di lavoretti in carico numero 6 abbiamo notato un problema a uno dei treni controllo lo stato del treni fa le riparazioni necessarie ok questa è una cosa un po generica abbiamo un problema con una locomotiva che è bloccata sulla tratta questo lasciamo stare per il momento il centro di gestione del traffico ci è informato di un treno che non è giunto alla stazione di destinazione oh cavoli facciamoci l'incarico numero 6 che è quello che non dobbiamo uscire allora abbiamo tre cose da trovare controllo lo stato del pantografo posteriore e anteriore di nuovo il pantografo va bene allora vuol dire che è una gran cavolata telaio del pantografo ok completa ordine ok ci siamo guadagnati altri 2000 dollari vediamo un po se possiamo migliorare il nostro robo qua la nostra officina allora facciamo migliora 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 ok basta tutto livello 3 adesso abbiamo quasi abbiamo migliorato quasi al massimo eh devo dire oramai ci mancano solo più due livelli per ogni categoria e si abbiamo migliorato al massimo bene bene ora per forza questi dobbiamo farci raga mi annoia un po dover andare fino là allora andiamo un attimino a questo vediamo un pochettino a ok questo non dovevamo trainarcelo noi ok era stato riportato ok perfetto la locomotiva l'impianto di raffreddamento di acqua e olio danneggiato ok inoltre controllo stato delle batterie ok ok allora penso che bisogna andare sul motore ho già visto oh cielo sicuro è questo e sicuro è questo ok in più lo stato delle batterie infatti denoto anche questo c'è però eh ho notato però il tubo è a posto in ordine ok in più anche nelle batterie c'è questa robina qui e vedo anche mi sembra questo ok allora iniziamo a smontare subito le batterie ok batterie smontate e ora ci smontiamo questo tubo qua ah anche questo vediamo un po' è infatti anche questo e questo e anche questo lato di qua allora vediamo un po' se possiamo smontare questo mi sembra ancora in ordine questo è in ordine ok vediamo un pochettino se possiamo riparare il tutto se ci danno la possibilità credo sia qua allora vediamo un po' ripara 66% mi pare non mi pare il caso vediamo qui allora ripara ok sono riuscito ripariamo a questo punto anche questo sono riuscito a riparare tutto tranne ovviamente le due batterie che è ovvia la cosa che non si possono riparare quindi ce le dobbiamo ordinare noi ne compriamo ovviamente due ordina perfetto e ora andiamoci a rimontare il tutto allora qui va messo ecco le stazioni di rifornimento qua una qua e l'altro tubo lo mettiamo qua e poi questa stazione qua che poi non è una stazione ma è un sistema c'è scritto vabbè vabbè noi la chiamiamo stazione allora uno due ok e montiamo anche le batterie e ne mettiamo una e una due ok credo ci siamo si mi da le due v perfetto completa ordine bene 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 ragazzi siamo andati parecchio avanti di nuovo meno male e vediamo se hanno messo dei nuovi ordini oppure se c'è ancora quello di prima vediamo un attimo ok ci è rimasto solamente l'incarico 8 da fare e dice il centro di gestione del traffico ci ha informato di un treno che non è giunto alla stazione di destinazione è stato visto l'ultima volta in prossimità delle zone desertiche trovalo e scopri cosa è successo sicuramente si sarà capoteato nelle zone desertiche quindi andiamo subito subito con il nostro trenino a soccorrere il povero trenino 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 vabbè la povera locomotiva caduta allora trova la locomotiva elettrica danneggiata nelle zone desertiche e dove stanno le zone desertiche scusatemi zone desertiche le uniche zone desertiche in cui c'è scritto deserto e nei depositi a vapore deserto sud deserto est ovest abbiamo il canyon credo sia qua io proverei ad andare per non so neanche se andare poi per di qui o girare andare per di qui vabbè in qualche modo vedremo come fare direi che possiamo ovviamente partire spero si senta il volume mi posiziono ovviamente appena passato questo mi posiziono subito per salire e vediamo un pochettino dove è andata a finire questa piccola locomotiva smarrita l'ho vista è là dietro è là dietro è qua raga è qua 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 l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista eccola là vedete il cerchio ero indeciso se andare dritto effettivamente o se andare avanti in realtà mi sono parecchio sbagliato ok no scusate ho detto se andare dritto o andare avanti no volevo dire se girare a destra o se girare a sinistra va bene non fateci caso sapete come sono fatto ok andiamo a prendere sto vagoncino speriamo incrociamo le dita che non sia cappottato perché non c'ho voglia di tirarlo su la zona desertica è molto molto bella comunque devo dire è veramente molto carina fortunatamente non si trova in terra ok allora siamo in direzione qua invece no dobbiamo andare indietro andiamo all'incontrario e si ritorna verso casa qua ci sono tutti i giacimenti petrolì e infatti giacimenti petroliferi si chiama la zona senza neanche farla apposta non l'avevo neanche letto eh quindi guardate un po' che must che sono dai ci vediamo in stazione va intanto suoniamo occhio ok avevo sbagliato strada ero andato troppo indietro fortunatamente c'era quel raccordo lì dietro di noi che mi ha salvato un pochettino la vita perché se no me ne andavo chissà dove allora entriamo ovviamente adesso al nostro deposito di treni elettrici noi siamo un treno diesel però sempre sarebbe stato carino in realtà se con l'upgrade delle locomotive elettriche a vapore ci davano anche un altro treno nostro diciamo ah uh quanti danni sembra che i danni alla locomotiva non siano gravi trova tutte le parti danneggiate e sostituiscile controllo stato dei fusibili oh cielo cielo ragazzi vedo già delle discordie qua allora sicuramente abbiamo questo poi sicuramente abbiamo questo poi sicuramente abbiamo questo poi sicuramente abbiamo questo e siamo a tre cosa c'è ancora che non va qua davanti mi sembra niente vediamo però se dietro abbiamo qualcosa sì vedo questo poi abbiamo questo oh cielo ce ne manca uno ce ne manca uno che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è che io non trovo l'ho trovato porca vacca ci ho messo tre ore era questo qua era raga l'ho trovato meno male ok allora iniziamoci a smontare tutto poi controlliamo dopo i fusibili direi quindi iniziamo a smontare questo ok poi smontiamo la boccola qua sempre che si chiami boccola non mi ricordo neanche più come si chiama quella lì va bene poi smontiamo questo ammortizzatore ammortizzatore questo ammortizzatore ok smontato poi andiamo nella parte posteriore della locomotiva e smontiamo i due ammortizzatori qui che collegano le boccole al telaio sempre che si chiamino boccola sì si chiamano boccole oh mi ricordo ancora raga mi ricordo ancora boccola sì vabbè che non è passato troppo tempo però uno potrebbe anche smarrire la strada allora qui ci siamo andiamo a vedere adesso se si possono ovviamente riparare le varie parti ok per quanto riguarda il banco di riparazione ho riparato tutto ora dobbiamo guardare qua in questo banco per l'idraulica se riusciamo a riparare tutto raga siamo stati fortunatissimi siamo riusciti a riparare veramente tutto ma è stato un colpo di fortuna eh però devo dire proprio veramente un gran colpo di fortuna per non dire altro direi allora montiamo le varie parti adesso ok primo ammortizzatore fatto passiamo ovviamente al secondo poi dobbiamo guardare i fusibili mi devo ricordare i fusibili eh non mi devo dimenticare allora fatto andiamo subito nel motore perché poi io me lo dimentico lo so a montare il tubo e già che ci siamo io i fusibili me li controllo ora raga allora ne vedo due sicuramente rovinati proviamo ad andare qua sul tre allora no ho controllato quello va bene credo ce ne siano solo due in realtà quindi io provo a smontare questi due qua poi se dovessero essercene altri mi faranno sapere loro ora montiamo qua le varie robe boccole ok primo pezzo fatto adesso dobbiamo mettere questo ammortizzatore qua e poi ovviamente il fissaggio del motore e basta dobbiamo riparare solo poi più i fusibili sempre che sono da riparare ovviamente ma credo proprio di no nella maggior parte dei casi bisogna comprare i nuovi quindi rendiamoci all'idea e poi direi che ci possiamo salutare qua per quest'oggi perché abbiamo fatto parecchia roba ok secondo incarico fatto e il terzo abbiamo trovato quello dei fusibili ovviamente abbiamo trovato tutti i fusibili da riparare oh uno si può riparare bene dobbiamo solamente comprare il fusibile 15 ok allora andiamo a comprarlo un po' caro devo dire sto fusibile per un fusibile 600 euro beh insomma un po' caro eh devo dire se andava in qualsiasi negozio di elettronica di parti di elettronica lo trovava sicuramente a meno però non giudico non giudico allora montiamo fusibile 15 fusibile 25 1000 euro costa il fusibile 25 va bene abbiamo fatto tutto vai completa l'ordine e direi raga che ci possiamo anche salutare vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare 1000 dollari ovviamente non di più ok guardiamo solamente gli incarichi che ci rimangono ancora dato che non ce n'erano più in lista vediamo un pochettino che cosa c'è rimasto allora incarico 9 c'è stato riferito che la locomotiva è vicino al valico montano ok tranne non ce ne fai le riparazioni necessarie ok direi che ce lo facciamo nella prossima puntata raga io raga per il momento direi che ci possiamo fermare qua siamo andati parecchio avanti con la nostra piccola carriera di meccanici di treni ovviamente ragazzi vi ricordo i miei link utili che sono in descrizione compreso il link delle donazioni se volete fare un piccolo supportino al canale e compresi i link dei canali con cui collaboro in più ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto di lasciare un bel like di commentare fatemi sapere cosa ne pensate della puntata io vi mando un grosso saluto ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti